buonasera ragazzi buonasera a tutti qua sta per finire il primo tempo di liverpool everton liverpool avanti 1 a 0 grazie a un gol di salà in un'azione un po' confusa che dopo vi descriverò sui video riguardanti la premier league allora parliamo di serie c la reggiana era avanti 2 a 0 sul gubbio innanzitutto io sto guardando liverpool everton cosa è successo stasettimana grandi robe a sud stavolta devo dire la prima su tutte cadono gli dei la caduta degli dei il signore signori catanzaro perde la prima in campionato in casa della vita erbese un successo importantissimo per i laziali che allungano sulla fidelis ultima in classifica sulla fidelis andrea ultima in classifica e nonostante tutto questo nonostante i due punti di penalizzazione intanto è finito il primo tempo ad anfield liverpool avanti 1 a 0 stavo dicendo grande sorpresa catanzaro che resta comunque ampiamente in vantaggio sono 10 punti di distacco sul crotone crotone che ha pareggiato in casa 1 a 1 con il foggia con un bel foggia su che solo su autorete diciamo ha subito il gol del pareggio e grandi novità anche a crotone a quanto pare saltata la panchina di franco lerda al suo posto lamberto zauli uno che allenava non ricordo se l'ander 23 o la prima vila della juventus lamberto zauli che aveva il compito improbo altramente improbo di provare a recuperare i 10 punti dal catanzaro hanno lo scontro diretto in casa però io penso sia molto difficile questa impresa oddio non è impossibile ma è molto difficile visto considerato che se il catanzaro diciamo ha frenato il crotone nell'ultime domeniche non è che abbia molto convinto è non sta facendo un gran girone di ritorno il crotone devo dire sempre per quanto riguarda il girone c c'è da segnalare la vittoria del messina in casa della gelbison doppietta di oliver clagel messina che a questo punto punta dritto la salvezza diretta anche se in questo momento ancora in zona play out punta alla salvezza diretta che comunque non sarà facile si si è avvicinata la turris che ha perso 2 a 0 a monopoli però poi c'è stata la vittoria dalla monterosi del monterosi tuscia in casa del giuliano altra partita dove è successo qualcosa di particolare dove viene espulso il portiere della monterosi sul vantaggio di 1 a 0 devo dire va in porta un centrocampista perché i laziali avevano comunque finito le loro sostituzioni non ricordo come si chiamasse centrocampista che para il calcio di rigore calciato dal giuliano e niente in pieno recupero tra l'altro sulla ripartenza la monterosi segna il gol 2 a 0 in zona play off e concludo con girone a gran bagarre oltre al pescara che fa 0 a 0 in casa dell'andria bella vittoria dall'audace cerignola sull'avellino bene anche il monopoli che è rientrato in zona play off comunque in agguato avellino latina juve stabia anche se la juve stabia un po rallentato ultimamente pareggiato in casa col taranto anche insomma dai un po più di interesse in questo girone c interesse che non è mai cessato nel girone b ribadisco fino a poco fa la reggiana era avanti 2 a 0 sul gubbio un punteggio importante anche perché il cesena prima di questa partita era un solo punto dalla reggiana con lo scontro diretto in programma domenica prossima nel prossimo weekend che può davvero riaprire tutto perché il cesena in gran forma 4 a 2 in casa dell'imolese l'entella butta via un'occasione anche per rientrare in corsa ma io lo dico non ho mai creduto più di tanto nell'entella nella virtus entella almeno per la promozione diretta pareggia in casa dell'olbia olbia che tra l'altro sullo 0 a 1 aveva anche fallito un calcio di rigore mentre perde l'ancona nel derby con una fermana signori che è in grande spolvero con questo fishnaller vecchia conoscenza della suntirole della reggina in serie b della reggina o della suntirol in serie b in serie nella suntirol fishnaller che del posto ci aveva giocato in serie c nel girone del nostro barletta pareggiano in casa nostra 1 a 1 e si perse 3 a 2 lì se non ricordo male comunque tutto questo mentre in zona salvezza diciamo che al crollo verticale dell'immolese fanno da contrattare un pareggio che se dell'aquila montevarchi con in casa con il fiorenzuola che serve giusto per tenere in vive le speranze di evitare almeno di evitare la retrocessione diretta del montevarchi visto anche l'andazzo dell'immolese che ha preso veramente una una piega bruttissima e sarà da vedere mentre finisce in parità per me un anticipo di play out fra alessandria e santonato tavarnello e santonato era andato in vantaggio poi la restante alla ripresa grande successo della re canatese a lucca e la re canatese con la fermana rispetto al girone d'andata è molto più avanti in classifica in settimana si giocheranno per il girone b due recuperi ci sarà siena torres e vispesano pontedera due partite che più che altro per definire un po il quadro della zona playoff girone a sempre più folle sempre più folle signore girone a in testa adesso c'è l'accoppiata ferralpi salò pro sesto ferralpi 1 a 0 l'arziniano pro sesto che pareggia in casa contro una juve next gen in grande forma che adesso in piena zona playoff settimo ottavo ora non ricordo ci sono cinque squadre al momento 5 o 6 squadre che sono in lotta per la promozione sono la ferralpi la pro sesto il pordenone che recupera una partita che era persa praticamente contro il mantova 0 2 2 a 2 la recupera negli ultimi minuti in casa si rifà vivo alla grande illecco che ne fa tre alla novara va avanti anche la propate attorno alla vittoria il vicenza dopo tre sconfitte di fila battendo 2 a 1 in renate io continuo a ritenere il vicenza la squadra più forte di queste sei solo che non riesce a trovare uno straccio di continuità ma un po come tutte davanti vedete adesso ferralpi e il processo adesso sono davanti tra poco incappa in una serie negativa e verranno riscavalcate ma è così in coda vittoria della triestina in casa dell'albinoleffe triestina che si rimette in corsa per evitare la retrocessione diretta ed è una lotta col piacenza a quanto pare mentre in zona play out pareggio della virtus verona contro il padova la pergolettese mi sa che ha pareggiato non vuole dire una cazzata e niente e niente il racconto per questa settimana finisce qui non so cosa stanno facendo reggiano e gubbio certo che stasettimana non sono mancate le sorprese ci si sente più tardi iscrivetevi al canale dove si parlerà di premier league di juventus e un po di quanto è successo oggi dal punto di vista processuale dove ci sono state grosse novità o meglio grosse novità importanti non sappiamo come prendere ma novità importanti ci sono state voi iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale